Perché dopo un lungo periodo di difficoltà, se non di impossibilità di dialogo, Minsk ha chiaramente segnato un punto di svolta, la Normandia anche, ma Minsk ha rappresentato il punto di svolta vero con un dialogo diretto. Il passaggio successivo è stato sicuramente Milano e il riavvio di una fase politica che può, spero, portare a dei risultati positivi per l'Ucraina innanzitutto. In questo l'Italia ha sicuramente giocato un ruolo molto positivo, però ripeto, sempre nel raccordo con gli altri paesi lì presenti, presenti nei formati delle riunioni, ma anche quelli che non hanno necessariamente partecipato alle riunioni. È nella tradizione italiana, ed è, e continua ad essere nella tradizione italiana, quella del lavoro inclusivo e di squadra, non esclusivo e limitato da alcuni.